Marco, Andrea e Maria sono i nomi di battesimo maggiormente presenti ad Arco. Al vertice della classifica il nome Marco, che si trova 221 volte nell'anagrafe del comune. Segue, sempre nella categoria dei nomi maschili, Andrea, con 210 presenze. Fra le donne rimane in testa l'intramontabile Maria, che con i suoi 189 censiti si classifica al terzo posto in questa curiosa competizione. Tra i nomi rari Spartaco, Teresina, Petra e Perla, ma anche Ferruccia, Elettra, Danny, Basilio e Nick. Visto il fenomeno di immigrazione, è chiaro che si stanno facendo sempre più spazio nell'anagrafe, Arcense, nomi di origine straniera, in particolare asiatici, africani e arabi. Per quanto riguarda il cognome, Bertamini è quello più presente sui campanelli delle case Arcensi, con 202 censiti. Segue Morandi con 155 e Amistadi con 139.